Vogliamo parlare agli italiani, vogliamo spiegare che siamo di fronte a un governo che si occupa soltanto degli affari propri, mentre le famiglie e le imprese italiane faticano ad arrivare a fine mese. E quindi è indispensabile mostrare che la politica si occupa dei problemi reali delle imprese e delle famiglie italiane. Anche per questo noi insisteremo perché domani venga mantenuto in aula il dibattito in diretta televisiva sull'economia. Ma temo che vogliano sfuggire anche a questo confronto.